Sì, anche se penso che presto si toglieranno i colori e credo anche che comunque non ci siano delle grandi differenze fra la zona bianca e la zona gialla. Io penso che presto ci saranno dei provvedimenti che rimposteranno completamente il discorso e che valuteranno il fatto che sta cambiando in modo sostanziale il virus e che quindi sta cambiando l'approccio che dobbiamo avere nei confronti dello stesso.